Stamattina mi sono alzato 19 novembre 1919 nasce a Pisa Gillo Pontecorvo cresciuto in una famiglia ebraica benestante sfugge alle leggi razziali riparando in Francia insieme al fratello Bruno che diventerà un celebre fisico nel 1941 aderisce al Partito Comunista Italiano e coordina in Piemonte e Lombardia alcune azioni partigiane con il nome di Battaglia di Barnaba dopo la guerra inizia la sua carriera di regista nel 1966 è leone d'oro per la battaglia di Algeri il film, proibito in Francia per molti anni ottiene due nomination all'Oscar si spegne al Policlinico Gemelli di Roma all'età di 87 anni ci devi spiegare 8 anni di silenzio cinematografico perché? grazie a tutti